ciao amici e amiche continuiamo deliver of the moon continuiamo la storia siamo arrivati che dobbiamo dar curent quando si finisce si parte sempre dobbiamo dare corrente la metropolitana arrivati davvero non mi ha salvato tutto io voglio ho fatto sta roba ma forse forse lo abbiamo praticamente è successo che sono venuti qui hanno sgamato che c'era bordello e un tipo gli ha detto che c'è un modo per arrivare che è questo tipo qua io credo di aver già visti firmati che c'è un modo per arrivare dove dobbiamo arrivare con un mezzo adesso dobbiamo mettere in ecco dobbiamo andare lì rete mpt offline alimentazione bassa stazione la metro della monolotaglia offline quindi non ti rifaccio la diagnostica trattato sul già che è perché dobbiamo andare dentro di qua urca allora dobbiamo fare la diagnostica aprire le porte è impossibile connettersi non alimentata perfetto attraverso l'angar ok apri la porta esatto vedi dove si è aperto la porta dell'angar e in teoria aperto anche la nostra porta ok assi ossigeno limitato adesso dobbiamo trovare un mezzo c'è colori allora che ci sono questi io come mezzi vedo soltanto questo evac 1 e evac 2 mi ricevete dobbiamo portare l'elion per non riuscire a parlare tre io prendo prima che il guasto è un mpt mi sentite mi ricevete mi ricevete che c'è da così divertente niente fissigliere mi hai servito su un piccolo interruttore non lo ascoltare adesso lo so le intenzioni è solo il carburante un bigliotto per dare via sei bloccato qui lascio perdere non vale la pena dobbiamo darcene sono un colpetto all'interruttore e voi avete fatto il resto se ti accetto questo che stai sabotando attivare il protocollo attivare il protocollo controllo masse caspita mi doveva raggiungere il manale nel lancio è chiaro che il laboratorio della base di ricerca aveva disattivato molto tempo per l'abbandonare l'ha fatta apposta l'ha fatta apposta abbiamo solo un minuto caspita durante il video andava avanti non si fa così si si può passare no cacchio è che non ci abbiamo tanta due minuti secondo me devo andare dentro qua è l'unico modo ah vedi figo ok caspita hanno fatto tutto sto sistema qua qua è fighissimo 2059 cinque anni dopo il blackout è bellissimo il rover raga bello sta ripresa questa ripresa potrei usarla per fare la copertina vediamo invece di qua com'è no di qua no questo è un altro rover un altro cosino in teoria c'è il corso delle ruote come di là eh sì infatti perché era standard ok si sta aprendo dove che viene messo dietro chiaramente chiude la porta dietro e ristabilisce l'ossigeno figo allora vediamo qui che cosa succede che bel pannellozzo di comandi eh ahiaiai carabba ok forse vai tra vai tra vai tra vai tra grande era rotto qui dobbiamo uscire su in cima per spostare la torre è come quell'altra stazione identica qui c'è l'ossigeno qui c'è l'ossigeno che poi tra l'altro ora abbiamo un sistema per creare ossigeno oppure 2037 dovrebbe esserci il carretto che mi porta su qua oh caspita oh caspita madonna proprio in fondo potremmo fare anche diversamente eh ok allora vediamo oh non mi raccordo nooo cacchio sono morto non ci credo non ci credo no ma che fai va tutto da capo cacchia ora dai secondo si muore riporta il pezzettino allora vediamo un attimo facciamo lo stesso lo stesso punto è molto bello questo gioco ragazzi mi piace un voto e faranno anche The Live As Mars a febbraio del 2023 abbiamo due minuti e 23 non è poco ossigeno ma devo stare attento qua ok 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 l'ultimo sopra sotto sopra non è che si abbassa questo qua ok allora vediamo un attimo di andare dai dai forza 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 veloci ok caspita fuori portata ok ok vabbè certo foro portata quella è l'altra torretta che devo andare a sbloccare sì cosa succede no 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 quindi andiamo ad andare all'altra entro due minuti e quaranta perché c'è il tempo non mi piace mai i giochi col tempo dai fermo 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 forza guarda da sinistra o la dai 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 sai l'u stai a eh oh ya v vi v Questa è tutta rotta, aiuteremo, eh ragazzi, ma questa è tutta rotta, che devo fà, nooo, con l'X, il sole, dai 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 dai, dai 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 ce l'ho fatta per un pelo raga ho girato al contrario la torretta fiamme gemelle un bel trofeo oh mio dio oh mio dio mi ha rotto il coso raga mi ha rotto il coso lunare ma poi scusa la luna mica si è troppo pesante viene giù anche lì strano sta cosa dovrebbe svolacciare le cose beh però se sono pesanti stanno basse quindi è tanto pesante è venuto giù dai interagisci però eh se no se ti arrivo a pelo come ho fatto a tagliare ok alimentazione stazione da uno dei due è arrivata sempre da due probabilmente anche per i guasti magari una si guasta l'altra c'è sempre per non rimanere mai senso e quello che farei io è obiettivo l'organizzazione monolotale al centro di controllo ok quindi qua si è aperto anche il secondo è che devo prendere ossigeno che ce l'ho dai diamo corrente avvia attivazione allora binari della monolotaria online ok un barlone di speranza 6 giorni dopo blackout non può essere non può essere non possono andarsene così il colonio morirà senza dire la terra idem non possono essere così egoistica che pensavano come possono essere così non funzionante il reattore si lo so sono andati via lo so sei solo ah lei ha provato funziona ancora vedi devo scoprire devo scoprire la rotaia devo scoprire la rotaia tu lo so tu lo so tu andiamo a salvare il mondo sto arrivando Sara, ti troverò Tom Baug qui c'è il reattore ragazzi non so se siete ancora lì le piste di stabile sono peggiorate tutto è peggiorato siamo al limite poveri ragazzi, non so se c'erano di ricevere il buon non so se si spero che potessi aiutarti la volta che stai rotta frena frena perché devi andare a sbattere frena quanto andava frena frena ai caspita che frena per me l'hanno sabotata hanno spaccato tutto viaggiare con prudenza allora dov'è l'apertura a porta sono qui ragazzi non so se aspetta aspetta no cacchialolo ah ok ossigeno credo che dobbiamo andare di qua io non lo so allora il ponte non ci sia alcun segno per esempio di sabotaggio e demolizione dei triti alcuna traccia e gravità naturale è stato intatto solo un passaggio molto stretto e c'è questione dell'uscita che il ponte crollasse eppure ha trovato un'altra entrata ok 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 di qua forse per saltare sopra ok ok caspita no forse di qui sì raga dovete darmi un po' di qui è qualcosa macchina scavatrice ah vedi quando la dottoressa Rosa la Vernd Sion IWS si era prefissato l'unico obiettivo sviluppare una fonte di energia sostenibile per la terra la quindi quantità di elium 3 raccolta nelle cavi di roccia lunare rappresenta un carbonato estradinato tuttavia si sarebbe avuti anni prima di sviluppare un reattore che potesse processare in maniera efficiente Sion 3 e solo allora l'energia prodotta sarebbe potuta essere trasmessa che cosa che ne hanno prima scavato io spero che mi dia energia qua eh ecco vediamo sì allora no 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 noi no facciamo una bella cosa finché c'è ossigeno qui eh ma ragazzi l'avete fatto un po' troppo lungo ah ho capito ho capito ah il pelo grande grande struttura dai dai al pelino pelo perfetto allora io per non rischiare lo vedo è qui credo che sia qui qua si arrivava con i mezzi e adesso chiude lì e qui c'è almeno c'è ossigeno V S A bellissima anche sta scena Alla struttura della bomba una cava due sala d'ingresso lo diciamo adesso alloggi 4.d RSA 6 hangar nucleo del reattore comando MP lavorazione ok ok ah bello cosa da sicurezza qui grazie ok esamina allora reattore risondo ma struttura mobile gli scavi sono operativi disponibili prestato del reattore la brecciudo controllo di scavi operativi e tutto l'ombara d'acqua qui non si può entrare qui che cosa c'è inserimento nome William Isaac data motivo della visita controllo vedi c'è qualcosa di losco ragazzi molto losco impianto di tombow guardate che bello raga bellissimo estrazione roccia lunare conversione Eion ok oh 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 reactor capacity at 9% capacità superior sono vicini Alex Alex Benvenuti a Tombow Benvenuti Tu che sei? Sara 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 Baker Used to be stationed at Pearson You work here? I used to Name's Isaac 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 Mr. Johansson? Where's the rest? I thought everyone There's no one else Why are you here? They're all gone I'm here to fix the MPT No use They locked the mainframe The system is inaccessible I'm a software engineer Show me Maybe I can What's going on? The reactor Is running out of fuel But power is still building up inside With the MPT offline That power can't go anywhere If it isn't stopped soon Wait, you're a software engineer? Come with me Wait, hold on Die, 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 die Forza Quindi sono andati di qua Allora Stalkier Vediamo un secondo Perché tanto Se scoppia Scoppia Titch La posizione del portatore Di energia umana USA Il mondo Perché poi alla fine Lo stiamo facendo tutto Per salvare la terra Eh, raga Sì, qui l'avevo già visto Ok Perché a volte mi dimentico Tonight Tonight Allora Don't bow Poi fanno tutto Fatto bene Anche se nello spazio Con le belle scritte Non mi sembra che c'è niente Alloggio Dell'equipaggio Caspita Caspita Allora Interagisci C'è qualcosa Ma che devo portare Sta roba Allora Non mi sembra E vai E vai, e vai, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Oh, caspita, serio? Ci sono i robot che, 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 cattivi Ok, eh, che è sta roba? No Caspita Eh Aspetta, la trasmissione dell'energia in microonde Sarebbe voluto quasi un decennio finché venisse completata Sarebbe crescita rapidamente Dieci anni, ma più serve diventare tutta la Terra Sì Questi, a me, sembrano Dei Persone che non ce l'hanno fatta, eh Poi Che casino, ragazzi, non si riesce neanche a fare Una Una base Ah, eccolo qua, eccolo qui, eccolo qui Eccolo qui, eccolo qui Ah, proprio Il problema è che non so dove devo andare Allora Ok, io dovrei andare lì Lì sopra Ok Ok Porca Non faccio il piloto, non faccio il piloto Ok Ce la farà il nostro Marco Drums Allora Scusa Ma da lì Alla Ah, non è da lì Alla È là Direto Ma dai Ma dai, è un scemato Era una stupidata, ragazzi Era una stupidata Come è, apro qui Devo aprire qui Allora Tra un modo Te l'abbiamo riuscito a rialogio Allora Allora Ai, ai, ai Grazie Allora Allora Ok Scusa, questo va qua qua Scusa, questo va qua Così Allora Allora, quindi non possono prendermi E ci siamo, e ci siamo Qui è tutto chiuso Credo che però mi faccia entrare di qua Esatto Allora 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 Allora